La corsa al Napoli Campione d'Italia ripartirà il prossimo 20 agosto e questa è una decisione che è stata presa dalla Lega Calcio che ha anche diramato la data del calendario di presentazione della stagione 23-24 che avverrà il prossimo 5 luglio. Moltissime le novità, innanzitutto dopo i primi tre turni di campionato ci sarà una doppia sosta per la Nazionale Azzurra che sarà impegnata nelle qualificazioni al campionato europeo del prossimo anno. Il 9 settembre contro la Macedonia del Nord e il 12 contro l'Ucraina. Per la prima volta in 50 anni il campionato si giocherà anche nelle festività di Natale e Capodanno con turni compresi tra il 30 dicembre 2023 e il 6 gennaio 2024. Due turni di campionato in cui saranno protagoniste tutte le formazioni impegnate a ricezione di quelle protagoniste della Final Four della Supercoppa italiana che si svolgerà tra il 4 e il 5 gennaio in Arabia Saudita. Rispetto alle stagioni passate ci sarà soltanto un turno in ambra settimanale per quanto riguarda la Serie A. La conclusione della stagione è vissata per il 26 maggio.